A Puglia Wine Identity, anche oggi non parliamo di vino, ma parliamo di salume. Ne parliamo con Caramia. Sì, buongiorno, sono Piero Caramia, socio amministratore dell'azienda Santoro. Oggi abbiamo esposto e fatto degustare il nostro capocollo di Martina Franca. Capocollo di Martina Franca che è un salume d'escellenza, però non lo sarebbe se non ci fosse la componente vino. Un vino cotto, sempre quasi una casualità, però uno degli ingredienti principali per la produzione del capocollo di Martina Franca è il vino cotto. Vino cotto ricavato da un vitigno di Verdica che è presente nella nostra Valle d'Itria, che ancora al momento della pigiatura, quando è ancora mosto, viene portato alla cottura. Viene portato a cottura e viene fuori questo vino cotto. Vino cotto che è un ingrediente molto essenziale nella produzione del capocollo di Martina Franca. Insieme ad altri ingredienti, sarebbe anche l'affumicatura con legno di quersia, viene fuori il capocollo di Martina Franca. Quali sono gli altri salumi che fate? Ovviamente, avendo un'associazione di allevatori del suino della Valle d'Itria, di fatti noi abbiamo costituito la comunità del suino della Valle d'Itria, dal maiale ovviamente viene fuori tutto, vari tipi di salumi, ovviamente sempre tutti quanti con budello artigianale, tutto ricavato dal maiale, non usiamo niente di industriale. Ovviamente gli altri salumi che facciamo sono vari tipi di soppressate, sia dolce che piccante, il casereccio che viene fuori dal budello gentile, del maiale e la pancetta arrotolata. Anche questo salume messo in evidenza anche dalle politiche agricole e forestali. Mi hanno detto che i vostri maiali mangiano bene, molto bene. Cosa mangiano? I nostri maiali hanno a disposizione quello che la natura gli dà, ossia il territorio, sarebbe che loro mangiano nel bosco, quindi si alimentano di quello che il sottobosco dà. Sarebbe, come poc'anzi abbiamo detto, del fragno, e tutte le erbe profumate del sottobosco, che sono quelle che dopo conferiscono alla carne del maiale quel sapore e quella differenza che altri carni non hanno. Oggi però ci sono tanti giornalisti, anche che arrivano da tutto il mondo, e ho visto che hanno apprezzato tantissimo i vostri salumi. Cosa potremmo fare per fare in modo che li trovino anche nei loro paesi? Certamente qualche puntatina all'estero ce l'abbiamo, però ogni gradino viene fatto a suo tempo, quindi diciamo siamo presenti però in minima parte. Lo speriamo prossimamente. Anche perché voi avete un'azienda familiare, quindi non è una grandissima azienda, è proprio per quello che il vostro prodotto è di qualità, di alta qualità. Certamente, è un'azienda bifamiliare, quindi non è che siano quelle produzioni industriali, siano quelle produzioni di qualità, ma con una minima quantità. Sigenerà. Un certo. Sigenerà.